Io penso a quello che si poteva fare per i lavoratori forestali, c'era la possibilità di stabilizzarli, c'era, c'erano i fondi che servivano ad aumentare le aree boschive della nostra terra, c'erano i fondi per mettere in sicurezza dal rischio ideologico i nostri territori, ma hanno voluto fare altro perché se sei precario stai là, puoi essere ricattato e devi contattare come un disperato. L'hanno fatto con i precari dei clienti locali e ci vengono a parlare di patto di stabilità, come fanno a parlare di patto di stabilità in Sicilia? È indecente, indegno, ci dicono che non hanno i soldi per stabilizzare i lavoratori e continuano a sperperare il nostro denaro, magari per mettere poi a San Martino di far chiamare da un suo servo primario i malati di tumore terminale, vanno oltre, vanno veramente oltre, vanno veramente oltre in una terra che è la terra dei parodossi, guardate. Noi abbiamo la possibilità di sfruttare il nostro metano, i nostri risoli.